Buongiorno a tutti, qui è Ardino Schenato da Yardforex.com e come ormai di consueto in questo video voglio andare a vedere con voi che cosa ci si potrebbe aspettare dal cambio Forex Euro-Dollaro questa settimana. Come avete visto la settimana scorsa è stato preso e toccato il livello 1.2230-1.2240 che prendendo l'ultimo video, quello di sabato scorso, avevo dichiarato apertamente questo tipo di obiettivo dell'Euro sull'Oro americano per tutte le cose che avevamo visto prima. Ma oggi a livello tecnico soprattutto voglio vedere con voi quelle che saranno le opportunità o comunque cosa si può aspettarci in base ai movimenti che farà il prezzo da questo cambio. Come vedete sotto, se non siete mai iscritti al canale potete iscrivervi al canale, potete lasciare un mi piace alla fine del video se questo video vi è piaciuto e attivare la campanellina così da ricevere sempre le notifiche per quando siamo live. A questo punto vado a schermo intero, prendiamo lo schermo intero, eccoci qui e vediamo proprio l'Euro-Dollaro, come è impostato, che cosa ha fatto questa settimana e come notiamo abbiamo un grafico weekly, quindi con barre settimanali alla mia sinistra, settimanale e un grafico giornaliero, quindi a barre giornaliere, ogni barra è una giornata, proprio alla mia destra. E qui notiamo, settimana scorsa ci eravamo lasciati così, io ero long con variate posizioni, tra l'altro poi lunedì ho anche incrementato un'ulteriore posizione per poi diciamo chiudere la posizione, ecco la posizione andava chiusa insomma qui tra l'1.22 diciamo e l'1.22.40. Questa era la zona diciamo di chiusura trade e infatti almeno al momento questa è stata la zona che tecnicamente ci aspettavamo reagisse l'Euro-Dollaro short. Così è stato al momento perché comunque dico al momento c'è ancora una struttura bullish, una struttura tecnicamente che si è fermata ma che potrebbe ancora portare il mercato dell'Euro-Dollaro a salire, però vediamo un po' che cosa può succedere. Come potete notare in questo caso preciso anche dal daily si nota e quindi nel brevissimo c'è stato un tentativo giovedì con questa giornata bullish dopo il mercato che era andato fino ai 22.40 quindi era riuscito a rompere i massimi, poi c'è stata questa volatilità ribassista, non è mai stata rotta al ribasso mentre c'è stata una bella barra verde fino a 1.22.20 all'incirca e venerdì si è formata questa ulteriore barra di volatilità che va ancora a cancellare diciamo i guadagni dell'Euro nei confronti del dollaro degli ultimi giorni. Questo ovviamente si può identificare come una situazione di indebolimento almeno di breve dell'Euro-Dollaro tra l'altro comunque un movimento molto ampio se andiamo a prendere massimo e minimo e questo tipo di dinamica è una dinamica che in effetti può portare a un ritracciamento e quindi quello che mi aspetto questa settimana potrebbe essere che cosa? Potrebbe essere molto sensibile alle rotture di massimi e minimi, soprattutto dei minimi perché dopo questo tentativo al rialzo è per ben due volte fallito e per dove è arrivato quindi l'area 1.21.70 che come si può notare è l'area precedente di offerta nonché era già stata l'area di offerta. Se prendo il daily guardate e vi metto così si può notare come questa era già stata, vedete, una zona di offerta e quindi in questo caso, eccolo qui, abbiamo un ribasso nei prezzi e dove lui si è fermato in chiusura, quindi non ha chiuso sotto è proprio qui quindi al momento non ha chiuso al di sotto di questa zona. Ecco, questo diciamo che si può identificare come sicuramente una situazione di indebolimento nel breve ma solo e solo se dovessimo ritornare al di sotto dei minimi quindi diciamo l'asta di prezzo nei prossimi giorni dell'euro-dollaro dovesse riuscire a battere sotto questi livelli probabilmente il mercato sarebbe anche più, diciamo, predisposto a vendere più basso e quindi far scendere maggiormente l'euro nei confronti del dollaro. E questo me lo aspetto, me lo aspetto solo se ci dovesse essere una rottura dei minimi che dove può portare? Ecco, i primi obiettivi sono praticamente la zona che ho segnato qui e prendo anche la zona 1,21 e 20,50. Diciamo che tutta quest'area qua è area da attenzionare perché potrebbero arrivare in effetti dei ritorni long quindi nel caso in cui ci sia la rottura di questo minimo e quindi praticamente, guardate se vado a prendere qui qui è la rottura del minimo 21,22 qui la rottura del minimo 21,56 21,22 diventa qui quindi se ci dovesse essere la rottura degli ultimi giorni si andrebbe facilmente sui minimi settimanali che potrebbero anche essere sporcati per arrivare anche a farsi il numero tondo 1,21 poi qua si vede se l'1,21 non dovesse essere tenuto molto probabilmente andremo a 20,50 poi vi spiego anche un po' che cosa penso di questo ma si potrebbe anche vedere inizialmente invece di subito una rottura al ribasso si potrebbe anche vedere un mercato che tiene bene o male e che magari va a farsi un nuovo massimo ma non riesce a tenerlo cioè vedere per esempio una situazione del genere ecco qua e rimaniamo su questa zona cioè di base potrebbe essere che un po' come era successo qui ecco qua non rompe subito aumenta la vola ma non riesce e rimane giù diciamo che questa è una cosa abbastanza possibile anche questa questa per me sarebbe una situazione più poi nella settimana successiva da investire short sull'euro-dollaro al momento sinceramente la rottura che può avvenire qui essendo molto l'euro potrebbe essere molto sensibile a delle zone molto vicine ai prezzi attuali non andrò assolutamente a vendere l'euro e non andrò nemmeno a comprare nel momento in cui ci dovesse essere uno sforamento al rialzo ma resterò a guardare quindi per concludere ma per farvi capire che ovviamente deve essere tutto abbastanza pianificata la cosa mi potrei aspettare uno alla rottura del minimo dei movimenti verso il basso che però allora potrebbero essere delle occasioni di acquisto successive nel caso in cui su delle zone che vi ho appena assegnato quindi da uno da qui da 1,21 e 20 1,21 e 1,20 e 50 ci possono essere dei dei chiari input dei prezzi quindi dovesse crearci insomma un tipo di dinamica long il mercato a quel punto allora si potrebbe pensare di riprovare a ancora comprare euro e andare a ricercare magari delle zone più alte il caso in cui invece ci dovesse essere una tenuta e magari anche uno sforamento dei massimi non sarei compratore ancora ma valuterei se questa rottura dei massimi sarà poi reale cioè inizierà a continuare con delle chiusure forti con una una dinamica di prezzo che magari mi può indicare anche la fuoriuscita da questi massimi oppure sarà una falsa rottura la falsa rottura se dovesse arrivare ripeto prendiamo per esempio questo tipo di dinamica che potrebbe essere così come come tipo di dinamica quindi se va a sforare potrebbe allora portare un movimento un po' più ampio e poi dopo vedere quindi per questa settimana almeno per quanto riguarda l'euro almeno i primi giorni della settimana probabilmente sarò un po' più osservatore di quello che avverrà non nego che ho già qualcosa a mercato basato su dollaro e che ho condiviso con gli abbonati alla nostra mentorship platinum del sito yearforex ma che sull'euro invece vorrei un attimo attendere e capire che cosa avviene proprio nei prossimi giorni proprio perché ci sono queste dinamiche che si possono che si possono creare ecco in questo caso direi che ritorno ecco qua a farmi vedere in questo caso direi che ci sono quindi i presupposti da quello che vi ho appena detto non solo di capire un attimo come andrò a guardare questa scena dell'euro poi ovviamente nell'evoluzione della settimana si potrebbe anche identificare qualche cosa da fare non è detto che però al momento è questa però ecco quello che voglio lasciarvi è anche un po' una trasmissione di un messaggio cioè pianifichiamoci il mercato che vogliamo andare a osservare per poi investire dei soldi e cerchiamo di capire come potrebbe comportarsi il prezzo magari con alcune varianti perché ovviamente non possiamo avere la sfera di cristallo e sapere che cosa per forza fare l'euro a meno che non ci siano delle strutture molto chiare come settimana scorsa dove avevo delle posizioni long dove vi ho appunto fatto vedere quel video e dove c'erano tutti i presupposti per fare per fare un certo tipo per avere un certo tipo di target che è arrivato questa settimana quindi vedete anche questo può essere un insegnamento chiamiamolo così una trasmissione di un messaggio di un'esperienza e la mia esperienza mi dice bene adesso valutiamo che cosa ci diranno i mercati cosa ci dirà l'euro in realtà tutta questa situazione è ben correlata con le valute principali col dollaro con l'oro le materie prime quindi bene o male ripeto mi potrei aspettare un ribasso dall'euro dollaro fino ai livelli che vi ho detto però a questo punto potrei valutare si potrà valutare le varie situazioni che vi ho spiegato e appunto per questo il mio messaggio è oltre al fatto di quando investite su un mercato cercare di capirlo come vi sto facendo vedere io quindi cercare di darsi un po' di view di quello che può avvenire pianificatelo cioè pianificate i trade pianificate la view che avete in quel mercato al di là se poi dopo andrete o meno a fare proprio delle operazioni a mercato ma pianificatemi un attimo i movimenti che possono avvenire poi magari ne avvengono degli altri cercate di capirli questo è un po' non buttatevi solo perché magari un indicatore o un qualsiasi cosa vi dice compra o vi dice vende pianificate poi se ci saranno i presupposti si può investire su quel mercato in modo consapevole e anche diciamo probabilmente più profittevole bene io direi che per oggi ho detto tutto credo che se volete lasciare dei commenti sotto al video credo che siano assolutamente ben accetti magari si può parlare lì sapete che c'è anche il gruppo facebook Price Action Trading Bayer Forex dove potete scrivere un po' le vostre view quindi vi aspettiamo anche là oltre che il canale Telegram Price Action Trading Bayer Forex e basta se siete dei platinum ci vediamo nel platinum altrimenti ci vediamo qui sul canale e a questo punto io vi lascio e vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video